E basta con questo insensato sfruttamento del suolo. La Liguria è una regione che va veloce, a mare, perché sino ad ora c'è stata soltanto speculazione edilizia. Basta con il finanziamento a eventi sportivi di facciata, come il recente Giro d'Italia. Occorre finanziare le società sportive di base, che sono un importante momento di socialità, di aggregazione, di confronto nella nostra realtà. Grazie a tutti.